Si vede tutto quadrato? Si 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 dai si vede Dai Andrea Dai Andrea Dai Andrea Dai Andrea Vai su Stai chiuso Vai Andrea Si Bravo Vai Simone Andrea la guardia Sali Vai Simone Andrea la guardia Stai chiuso Andrea Stai chiuso Andrea La guardia Ancora, ancora! Ancora! Vai, primone! Dai, Andri! Vai, su, è chiuso! Chiuso! Dai, Andrea! A 26 deve tirare! Dai, Andrea! Vai, in testa! E che cazzo! La guardia! Tutti così! Brava! La guardia! Si fa che mai con le palanti E... Poi ho... Quindi metto tutti così i punti ... ... ... ... ... ... ... Andre la guardia! Vai, apri! ... ... ... ... ... ... ... ... Vai, Simone! Vai, Andrea! ... ... ... ... ... ... ... ... Vai! Di là! Di là! Vai Simone! Si! Tira i miei punti! Vai! Vai Andre! Bravo! Dai! La guardia! Vai Andrea! La guardia Andre! Non è male che non fate l'altro! Vai Andrea! Un punto! Ma non farci anche quello! Questo! No! Vai Andreio! Dai Andreio! Dai Andre! Bravo! Chiudo così! Bravo! Dai Andreio! Di là! Di là! che gli ho detto prima devi fare uno due e sali sopra vai Andrea dai Andri Andrea vai dai Andri va bene infatti dai 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 andri dai andri si vai si ancora bene dai sono già usciti sono usciti vai andri bravo andri occhio mi raccomando la guardi eh dai 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 era fuori era fuori era fuori andri 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 no andri c'era, c'era 3 punti cazzata quindi li da perchè quello l'ha detto di no se non c'era è l'arbitro, l'arbitro più a me piace è brava, è quella che stava a tirare esatto, è quella che stava a centrale a me cioè non stava a centrale quella che stava a centrale si, era la vabbè vai Andrea vai Andrea forte vai bravo vai ancora 0 Andrea non usci oh ma vai ancora mia go oh tieni iniziativa Andrea Andrea, vai! Andrea, si spegna! Andrea, attacca tu! Attacca tu, attacca tu, attacca tu, vai! Siamo! Dai! 25 secondi! Sbagliato! Vai Simona! Vai Simona! Dai Andri! Andrea! Vai! Vai Andrea, vai! Sbagliato! Occhio! Andrea, attenta! Sì! Bravo! 24! Finito! Finito! Era finito la differenza! Bravo! Gio, il telefono! Non ci credo! Ci sei riuscita! Non ci credo! Ci sei riuscita! Fermala! Ci sei riuscita! Foi unbelievable!